Con il ricovero del primo paziente è stato attivato ieri sera il reparto Covid allestito al terzo piano dell'ospedale Marino di Alghero. Nel reparto sono attualmente operativi i primi 5 posti letto che diventeranno 16 entro la metà della prossima settimana. Successivamente il piano modulare prevede entro la fine di dicembre l'attivazione di un totale di 40 posti letto dedicati ad agenti Covid positivi. Poche ore prima dell'attivazione il reparto Covid è stato benedetto dal cappellano dell'ospedale Don Fausto Garau. All'ospedale Marino restano attivi servizi di oculistica, ortopedia, riabilitazione, diabetologia, medicina dello sport e altri servizi ambulatoriali. All'inaugurazione del trassindaco di Alghero Mario Conoci e tutta l'amministrazione comunale era presente il presidente del consiglio regionale Michele Paes che ha dichiarato con l'apertura del reparto dedicato ai ricoverati affetti da Covid-19 presso l'ospedale Marino anche Alghero partecipativamente alla lotta contro il coronavirus. L'ospedale civile e il Marino di Alghero rappresentano in questa fase dei presidi ospedalieri fondamentali per tutto il territorio del nord Sardegna che la regione ha intenzione di rafforzare anche dopo l'emergenza, conclude il presidente Paes, per ridare slancio ai servizi a una sanità e alle sue strutture che sono state falcidiate negli anni passati.